buongiorno buongiorno sei venuto qui per un controllo controllo lo scriviamo subito nome bellissimo nome quando sei nato ok ok cominciamo subito cominciamo subito iniziamo con la vista periferica guarda la luce guarda la luce ok dimmi quando la vedi entrare perfetto perfetto ok 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 un'ultima volta di qua guarda di là e fammi vedere sì perfetto direi che per di qua ci vedi adesso guarda le mie dita guarda le mie dita dimmi quando la vedi più ok guarda guarda le mie dita guarda le mie dita ok guarda le mie dita guarda le mie dita ok adesso dimmi le lettere che vedi cominciamo che lettere è questa? sì questa? sì questa? sì questa? sì questa? sì questa? no va bene va bene va bene va bene va bene non ti preoccupare sì 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 è tutto a posto non ti preoccupare no 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 adesso farò dei numeri con le mani tu dovrai dirmi che numero vedi Ok, chiuditi l'occhio sinistro. Perfetto. Sì. 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 Ok, adesso chiuditi l'occhio destro. Sì. 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 Perfetto, 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 perfetto. Adesso, ultima cosa. Relax gli occhi. Io te ne copro uno con la mano e con l'altro faccio un altro controllo con la luce. Tu fai così. Guarda sempre la punta del mio naso. Ok. 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 All'altro lato. Ok. 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 Allora. Appuntiamoci le ultime cose. Cosa c'è da dire? Ho visitato i tuoi occhi. Ci vedi abbastanza bene. Ti mancherò però uno decimo da un lato e un decimo e mezzo dall'altro lato. Quindi, se ti spiace, devi mettere gli occhiali. Sì. Sì. Le prenoto la vita per comprarli. Arrivederci. Ma buongiorno. Mi dica, cosa le serve? Un controllo? Un controllo alle orecchie? Certo. Altrimenti perché è venuta qua? Me le faccio inizialmente vedere. Bellissime. Allora, iniziamo però prima con una piccola pulizia. Perciò, si giri da questo lato. Si giri adesso da quest'altro lato. Ok. Me le faccio vedere però con la luce. Si giri da questo lato. Lo vedo. Sì, 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 sì. Mi sembra vada tutto bene. Guardi di qua. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Dai. Penso vadano abbastanza bene. Adesso, cosa faccio? Le vado a passare questo dischetto. Dimmi, mi dica se lo sente. Se le dà del solletico sulle orecchie. Ok, la sensibilità Ce l'ho Adesso le passerò piano, 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 piano Questo pennello sopra le orecchie, così Lei mi dovrà dire i punti in cui non lo sente, diciamo Piano, 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 qua, ok Va bene, va bene, perfetto, perfetto Giù, 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 giù Qua, 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 perfetto, perfetto No, non si preoccupi, va tutto bene, va tutto bene Va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene Adesso un piccolo test del suono Lei chiuda gli occhi, chiuda sia questo che questo, tutti e due gli occhi Perfetto, perfetto, perfetto Io adesso farò scattare la penna, lei mi dica se lo sente a destra o a sinistra Ok, perfetto, perfetto, perfetto Perfettissimo, vada così che sta andando benissimo Ok, perfetto, perfetto, perfetto Ok, mi faccio appuntare le ultime cose Ah, non l'ho chiesto come si chiamava, mi sono dimenticato Certo, cognome Ok, scusate, non mi era appuntato le ultime cose Bene, ricontrolliamo in un ultimo momento Ancora con la torcia Guardi di qua Perfetto, adesso guardi così che controllo questo altro orecchio Tru 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 tru, tru 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 Così, perfetto Perfetto, perfetto Mi sembra, mi sembra, mi sembra Che vada tutto bene La sensibilità ce l'ha Il suono lo sente Destra e sinistra Perfetto Allora non ci resta che salutarci Perché lì sta benissimo Perciò un bacio a mai più Ma buongiorno Aveva prenotato? Ah sì, eccola qua Pensavo non l'avete prenotato, non si preoccupi L'è qui per un taglio Tutta quanta, sì, sì, certo Lo vedo, lo vedo Che qua i capelli sono un po' Un po' tanti, ecco Facciamoci capire così Iniziamo, perfetto 10 lavati, li deve lavare Sì, partiamo subito con lo styling Allora è l'acconciatura, il taglio, certo Allora, prima Questa spazzola Devo pettinarglieli Perciò Brush, 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 brush Brush, 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 brush Adesso da questo lato Brush, 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 brush Si, li vedo, li vedo Che sono veramente tanti Sopra qua Ok, adesso Con questo pettine fatto apposta Cosa faccio? Ti prendo una ciocca L'ho presa, la metto qui E poi Di nuovo Tiriamo su Prendiamo una ciocca Posiamo Ancora Prendiamo Una ciocca, eccola qui Ok, sistemiamo Perfetto Mi faccio l'ultimo Pettinare Quindi Ok, ok Prendiamo un'altra ciocca Ok, presa Zac, 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 zac Così, presa Zac, 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 zac Mi faccio vedere, mi faccio vedere Vediamo, vediamo, vediamo Sì, mi sembra Padano Di certo Meglio di prima Meglio di prima Meglio di prima Meglio di prima Adesso Ultima cosa Questa 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 Lei ha bisogno Di un po' di cera Che gliela esiste Ne prendiamo un po' Ne prendiamo Ne prendiamo Un po' La scaldiamo Tac, 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 tac Tac, 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 tac Tac, 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 tac Tac, 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 tac Così Sì, sì, sì Si rilassi Si rilassi Si rilassi Che Impuite le mani Impue le mani Così Ok Dovrei averli sistemati, sistemati, sistemati Le piacciono, non ho qui uno specchio ma si può fidare di me, sono bellissimi Quindi lei non deve fare altro che andare in casa e poi se vuole prenotare un altro appuntamento Le consiglio vivamente di farlo, perciò un bacio Salve, 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 salve Benvenuto dall'estetista Mi dica cosa le serve Un po' di trattamento completo per il viso E lo vedo che quelle devo sopsistere, ma è assolutamente le sopracciglia Toglierti un po' di prufoli che faccio, ma non ti preoccupare, è normale, è normalissimo Bene, io direi iniziamo da quelli Ho questo strumentino adatto Che fa proprio al caso mio Cosa faccio? Andrò a Spremare i prufoli con questo, 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 questo E quindi Prug, 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 ok, perfetto Vi faccio controllare se ne ha altri Forse, forse sì, uno qua Perfetto, non ci serve più questo strumentino È molto utile, vero? Lo so Adesso le sopracciglia, vanno paura quelle sopracciglia Perciò vi faccia ridisegnare la forma Sì, 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 sì Io le faccio un po' più sottili, poco, va bene Sì, 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 sì Non si preoccupi, non si preoccupi tanto Per qualunque cosa, qualunque domanda mi chieda pure Così, sì, 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 sì Sì, mi faccio vedere per bene, sì Adesso però devo un po' accorciarli Questa braccia le ha lunghe chilometriche Perciò, zack Facciamo zack, 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 sì Mi chiede se riesco a tagliare con la sinistra Più o meno, ma lo farò lo stesso Zack, 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 sì Ancora un po' zack, zack Ok Adesso mi dispiace ma c'è la parte un po' più brutta Per lei Devo andare a fare un tiro, via Tiro, tiro, via Tiro, via, così, 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 così Quindi, prendiamo un sopraggio, via Tac, 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 sì Tac, 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 tac Mi faccio controllare Perfetto, perfetto Adesso però vedo che si è un pochino arrossata È normale È normalissimo Perché le ho irritato con un pochino la pelle Per questo con cui questo olietto è veramente veramente bello Quindi faccio tac, 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 due gocce messe sulle mani E adesso un po' di... vi vediamo vediamo dai mi sembra mi sembra mi sembra vada tutto benissimo e sicuramente migliore di come entrata prima Sì, vado pure in cassa per il conto. Speriamo di rivederci presto. Un bacio. Arrivederci. Ma buongiorno. Dica cosa le serve. Un full face? Certo, certo, non si preoccupi. La rimetto a nuovo. Perciò cominciamo. Si secca pure. Bene. Cominciamo con questo fondotinta, sì, BB cream proprio. Leggero, leggero. Che applicherò con questa piccola spugnetta. Perciò... Ok, ne mettiamo un po', un po', un po', un po'. Sì, direi che è perfetto. Sì, sì, così, così, così. Sulla fronte anche. Fammi vedere. Direi che si è sfumato perfettamente, perfettamente, perfettamente. Sì, 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 così, 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 perfetto. Perciò richiudiamo. Adesso, adesso le devo mettere un po' di terra, giustamente, perché dobbiamo creare profondità. Io qui prendo questo pennello, pennello, questo, questo pennello perciò. Ok, quindi sfumiamo, sfumiamo, sfumiamo questa parte qua, anche di là, sfumiamo, sfumiamo così, 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 ancora un po' perché non è abbastanza. Così, così, perfetto, perfetto. E anche questo lo possiamo mettere via. Adesso cosa farò? Ho qui questo bellissimo blush, le andrò a mettere qualche puntino, uno qua, uno qua e anche uno qua sul naso perché adoro l'effetto del naso un po' arrossato. Sempre con lo stesso pennello andiamo a sfumare velocemente perché sennò si setta, si setta, si setta già subito il prodotto e quindi non si riesce poi più a sfumare. Così, veloce, veloce, e anche sul nasino, così, così, così. Adoro questo blush, mi piace veramente, veramente tantissimo. Sì, 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 così, così, vi faccio vedere. Ancora un pochino, perfetto. Perfetto, direi che la base c'è. Sui occhi le metterò soltanto un po' di mascara. Ora, ho qui, questo qui. Sì. Chi ha questo scovolino qua, perciò lei guardi, mentre passero il mascara, faccia questo momento con gli occhi come se li dovesse chiudere. Io spingerò verso l'alto, verso l'alto, verso l'alto e poi a zigzag, a zigzag. Perfetto, adesso da quest'altro lato. Verso l'alto, verso l'alto e poi a zigzag, a zigzag. Perfetto, chiudiamo bene, che sennò si secca. Mi faccia vedere, sbatta un pochino gli occhi. Ok, li chiuda. Ok, il mascara non ha spavato, perfetto. Mi faccia sistemare ancora un attimo la base. Ok, direi che siamo a posto. Adesso, ultima cosa, anzi, ultime due cose. Un lip gloss. Anche qua uso questo fantastico. Perciò, metto le labbra così. Ok. Perfetto. Ultima cosa da fare. Un po' di setting style. Perché, sennò, questo trucco non le dura. Swish, swish, swish. Ancora. Ancora un po' meglio bondare. Ok. Lo stavo richiudendo dal lato sbagliato. E vabbè, la vecchiaia. Perciò, adesso, facciamo solo un po' asciugare. Perfetto. Il trucco è finito. Perciò, mi dica, se l'è piaciuto, se l'è piaciuto, metta una bella recensione sul sito. E niente, arrivederci. A mai più. Un bacio. Se l'è piaciuto. E socialisti. Grazie.